ragazzi finalmente tratterò quei nomi che mi avete chiesto sempre sempre durante le live e che hanno un po di azzardo nella loro nel loro acquisto all'asse del fantacalcio ciao a tutti ragazzi bentornati da carmi special e bene sì oggi tratterò qualche nome un po delicato qualche nome un po scommessa le scommessone giocatori che avranno dei rilanci ma possono essere dei crack anche al fantacalcio quest'anno vi ricordo di iscrivervi al canale anzi do il benvenuto a tutti coloro che siano iscritti in questi giorni che attivano anche la campanella che lasciano il like e il commentino qua sotto con la loro opinione mi raccomando lasciatelo poi qua sotto e seguitemi ovviamente sia qui su youtube anche per le live ma anche sulla piattaforma violanze ringrazio tutti coloro che fanno anche la sub seguitemi anche sui social instagram soprattutto e ringrazio anche tutti coloro che stanno supportando il canale sulla piattaforma tipi detto ciò vi ricordo anche che in descrizione trovate il link per scaricare one football vi aggiornarà su tutti tutti diciamo le news nel mondo del calcio soprattutto nel periodo di calcio mercato adesso vi mostro mamma mia che notizie che escono in questi giorni raga poveri fantallenatori poveri fantallenatori soprattutto quelli che fanno asta adesso ma anche quelli che faranno asta a settembre sono un po preoccupati per la povertà di listone infatti io vi lascio il link in descrizione per scaricare one football così vi aggiorna vi aggiorna l'applicazione stessa però c'è un po di pressione per la situazione cr7 vlaovic insomma alcuni bomber che sono appunto sulle voci di mercato quindi occhio occhio ragazzuoli poi a fine video se mi ricordo vi spiegherò un po' alcune cose per quanto riguarda la lega pubblica la lega soprattutto degli abbonati ok quindi ne parliamo a fine video fatemi ringraziare però come detto tutti di per se le stanno supportando il canale ma molti mi hanno chiesto dove trovo i vantaggi ragazzi nella sezione news sbloccate le istruzioni per il gruppo telegram con tutti di per se abbonati appunto la sezione appunto c'è i vari file excel quello della grigli abbinamenti quello del file excel compilato che questo degli analisi reparti quindi ok andate a spulciare la sezione news di tipi adesso andiamo invece a vedere le slide che vi ho preparato per questo episodio gli azzardi ragazzi un vi consiglio al fantacalcio concentrato su degli azzardi cioè giocatori che non ci danno sicurezza di rendimento ok sia perché magari avvengono da stagioni un po' particolari oppure perché sono al loro primo anno nella nostra serie a e cercheremo di comprendere se vale la pena acquistarli ok dai iniziamo a questo punto con il primo nome che è Dejan Kulusevski di lui tra l'altro ho parlato nel video di ieri o meglio non nel video di ieri in un video che è uscito ieri nel canale di Sequelf abbiamo fatto un episodio insieme del video consiglio al fantacalcio e parlando appunto di Kulusevski cosa ho detto che ha un potenziale molto alto e che Allegri è molto bravo con i giovani quindi potrebbe effettivamente farlo rendere molto meglio del solito o meglio della scorsa stagione potrebbe effettivamente essere molto utile nonostante non dovrebbe essere il titolare ok nella Juventus però qualche partita potrebbe anche farla in quel modo schierare spesso con copertura cosa significa che a volte noi siccome non sappiamo se sarà titolare quanti minuti potrà giocare magari lo schieriamo lo stesso talvolta ok però con la copertura cioè con giocatori che voi dobbiamo magari devono essere innanzitutto titolarissimi ok e che possono magari subentrare al suo posto non dovesse prendere il voto a livello di acquisto è consigliato come terzo slot mi sono dimenticato a scrivere terzo quarto slot poi dipende dal numero di partecipanti come cifre infatti non spenderei più del 4 5 per cento che altrimenti poi ha un costo simile a quelli di Soriano e altri nomi quindi non esagerate con la spesa però comunque potrebbe essere interessante come acquisto a ruolo mantra ha una WT se non erro quindi una buona seconda linea magari non l'utilizzate titolarissimo ok ma come alternativa è molto valida ok lì magari lo pagate dipende nel momento in cui viene acquistato lo pagate anche poco e potrebbe servirvi in diversi moduli poi andiamo avanti con un'altra scommessona Orsolini giocatore che a me non dispiace ragazzi molti l'ho visto che l'hanno un po' sottovalutato dicono carmelo guarda c'è molto ballottaggio c'è da una parte Barro dall'altra c'è anche Vignato Scovolsen poi Orsolini appunto sono tanti i nomi e lui potrebbe non giocare raga giocherà giocherà da titolare da subentrato i bonus li farà tra l'altro è anche rigorista sarà lui il rigorista numero uno in teoria del Bologna quando non ci sarà lui forse non lo so sarà Ornatovic o qualcun altro però è lui il rigorista e questa è una cosa da non sottovalutare ha un potenziale comunque molto molto alto nel senso che ha dei piedi una tecnica e velocità tale da poter magari rendere anche meglio della scorsa stagione dove comunque ha fatto mi pare sette gol e quindi ha un problema che è la discontinuità la discontinuità è il suo punto debole ma anche magari il fatto che a volte potrebbe magari non per forza partire da titolare secondo me la maggior parte delle partite lo farà però secondo me come secondo o terzo slot dipende quando ve lo fanno pagare dipende dal numero di partecipanti secondo me se lo prendete come terzo slot è un terzo slot di lusso prezzo max io ho messo 7% meno alcune leghe vi assicuro verrà preso a molto meno e ruolo mantra io ho messo mi pare w a dovrebbe essere quello di orsolini che è molto molto appetibile magari non proprio come a principale ma comunque può essere utilizzato spesso anche come w se avete la certezza della presenza da titolare in quella partita e il bologna magari affronta una difesa scarsa insomma potreste utilizzarlo spesso anche al mantra poi altra scommessa non al zaniolo quante domande su zaniolo ragazzi nelle live ma cosa ne pensi di zaniolo quanto va pagato lo devo prendere come primo come secondo slot allora il giocatore a me fa impazzire nel senso che ha un potenziale io ci ho scritto appunto enorme cioè uno di quei pochi centrocampisti che veramente ti può fare la doppia cifra che ha quel potenziale veramente da crack però attenzione perché quel crack potrebbe essere invece un infortunio l'anno scorso l'ho gufata in quella maniera possibile doppia cifra dopo secondo me mkhitaryan chiesa quello che ha il potenziale maggiore a riguardo per la doppia cifra però lo sappiamo a questo rischio infortuni viene da una stagione veramente tormentatissima diciamo per quanto riguarda i ginocchi e i crociati ecco quindi stiamo un po attenti stiamo stiamo attenti e così tanto infatti ve lo dico così tanto come secondo slot se possibile cioè magari lega dove viene sottopagato quindi pagato non so il 6 7 per cento quindi 30 crediti su 500 secondo me non è un acquisto sbagliato anzi a quella cifra secondo me è un buon acquisto quindi sotto l'otto per cento per me ma ancora bene quindi sono acquistato come secondo solo te fate un buon acquisto come primo sono sincero un po un azzardo è veramente in quel caso un azzardo quindi dovete comporre se prendete zagnolo a prescindere da che solo prendete dovete comporre un reparto solido ok ruolo mantra w t molto più appetibile perché lì effettivamente se utilizzate anche più di un giocatore sulla tre quarti beh lui è una pedina fondamentale o come w come t è un giocatore che potrete utilizzare praticamente sempre poi andiamo avanti con show muro d'offre siamo appunto in casa roma è arrivato abraham ragazzi però sinceramente io vedo meglio lo zbeco perché ha tanta personalità e freddezza un giocatore cattivo agonisticamente parlando ok quindi ha fame veramente un giocatore che ha molta molta fame e a me piacciono questo tipo i giocatori e secondo me poi il letto a vivete karma io che amo carmi quindi capita bene insomma secondo me potrebbe fare molto bene esplosivo nelle giocate e dietro nelle gerarchie ci ho messo un punto in derogativa perché non è detto secondo me parte dietro perché comunque la spesa per abraham è stata molto diciamo onerosa però potrebbe magari già giocare la prima ad esempio e far bene e poi difficilmente perderà magari il posto vedremo secondo me comunque avrà un buon minutaggio e in quel poco minutaggio potrebbe far bene io comunque non vi consiglio di spendere tantissime prenderlo tre nei primi tre slot ma prenderlo come jolly no e per chi non sa cos'è il jolly recuperi il video sul dizionario di garmi special ma comunque come quarto slot jolly potrebbe essere interessantissimo prezzo max ho messo un 7 per cento perché quella la cifra del solito che resta ai fan d'allenatori per il quarto slot come uno dei migliori quarto slot come jolly quindi ci potrebbe magari stare ma ovviamente se lo pagate molto meno ancora meglio e ruolo mantra dovrebbe essere se non sbaglio pc e una seconda linea cioè non ovviamente da considerare come se lo dovrete utilizzare per forza titolare poi magari a lungo termine si però non prendetelo ecco c'è da lui la mia pc o la mia spalla del mio pc forte no come seconda linea come alternativa ok che vi può esplodere durante la stagione poi altra scommessona giro giro ragazzi è un operatore che calcisticamente mi piace molto ok può portare la doppia cifra non è detto non è detto può farlo se soprattutto sfrutta le assenze eventuali di braimovic ok e soprattutto se sfrutta quei pochi minuti a disposizione ha fatto un buon precampionato alla nuve sulle spalle ma io me ne sbaglio me ne frego di di questa cosa sono sicuro ragazzi perché calcio e fantacalcio è uno di staccarsi e dalla scaramanzia per certi versi anche se ovviamente le gufate ci sono sempre eccetera eccetera ma schierabilità complicata perché perché appunto quando ci sarà libera magari non saprete spesso se sarà titolare o meno quindi avrete magari il dubbio di schierarlo o non schierarlo però secondo me se parte soprattutto forte in questo inizio di campionato con i bra fuori potrebbe il suo minutaggio non essere poi così ridotto e quindi essere già una buona pedina nel vostro attacco ok quindi attenzione anche lui lo consiglio come jolly come quarto slot lo stesso discorso per show muro ragazzi identica cosa nel prezzo è quello 6 7 per cento dipende da quanti crediti vi restano per i giocatori che non sono nel vostro tridente ok ruolo mantra pc anche lui seconda linea c'è un giocatore che andrei a utilizzare all'occorrenza o meglio che potrebbe poi esplodere durante la stagione l'utilizzo titolare alcuni forse lo pagheranno però come diciamo come prima linea ecco come titolare sinceramente io non lo farei però è un giocatore che non mi dispiace da acquistare ultima scommessona gabbianini in gabbianini ragazzi un nome che a me piace tantissimo lo si paga pochissimo mi ho messo prezzo max 3 per cento ma poi in alcune leghe andrà via tipo a 1 pochi fanta milioni è un giocatore che dovrebbe giocare a supporto della punta quindi sulla tre quarti ha un piede magico e soprattutto guardate lì cosa ho sottolineato oltre ai possibili bonus frequenti la costanza nascosta cioè non è un giocatore che te dici ma è un giocatore affidabile costante però se vai a vedere in realtà i suoi voti le sue pagelle sono buone sono molto buone lo può confermare solo magari chi lo ha avuto magari l'anno scorso al fanda calcio in lega dove magari si è in una lega molto numerosa oppure per situazioni di emergenza si è ritrovato utilizzarlo magari spesso e può aver riscontrato questa costanza ragazzi andate a controllare un giocatore che comunque si comporta spesso bene e non prende poi una marea di insufficienze quindi l'unica cosa che schierabilità complicata perché perché magari non essendo uno del vostro tridente non sarete spesso tentati di schierarlo e quindi è uno che i bonus in panchina ve li porta cioè nel senso che sprecherete magari diversi suoi bonus però secondo me come qui jolly quinto slot secondo me non è niente male e ha al mantra una buona seconda linea detto ciò ragazzi io vi ringrazio vi ringrazio per la compagnia ma voglio sapere anche la vostra opinione su questi nomi facciamo una sorta di sondaggio qua sotto nei commenti per quanto riguarda invece vi dicevo la lega degli abbonati ok e la lega pubblica per la lega pubblica c'è la news che sto diciamo trattando per quanto riguarda i premi e sto capendo che premi inserire e dipende tutto dal numero di partecipanti quindi fate iscrivere più persone possibile alla carni special league ok trovate il link comunque qua sotto mentre per quanto riguarda la lega degli abbonati metterò un annuncio nel gruppo telegram ok degli abbonati quindi spiegati eventualmente per entrare anche se comunque io metterò il messaggio fissato e potrà essere visualizzato anche dopo però appunto avrete modo di iscrivervi con le informazioni che metterò nel gruppo se qualcuno non vuole entrare nel gruppo telegram ok perché non gli piace non gli va eccetera ma vuole comunque partecipare alla lega degli abbonati mi scriva un'email col contatto che trovate in descrizione va bene detto ciò ragazzuoli io vi auguro una buona preparazione all'asse una buona asta soprattutto non vi perdete i prossimi contenuti le live che trovate sul canale in questi giorni sia su youtube che sulla piattaforma viola io vi saluto vi auguro come detto una buona stagione fantacalcistica 2021 2022 e non esagerate con gli azzardi mi raccomando ma selezionate quelli migliori ciao ragazzi